E' scattata la caccia alle occasioni. Dal 6 luglio infatti è tempo di saldi estivi anche ad Arezzo. Le vendite di fine stagione dureranno 60 giorni. Secondo le stime e previsioni di Confesercenti ci sarà una propensione di spesa media tra i 180 e i 200 euro, un aretino su due, poi si è detto pronto a comprare. I saldi sono attesi dalla rete dei nostri commercianti e dai negozi tradizionali, per cui è sempre un periodo positivo dell'anno. Le attese sono buone, sono partiti bene direi anche grazie al flusso di turisti che c'è ancora nelle nostre città e nei nostri centri storici, quindi comunque i saldi sono sempre una bella boccata d'ossigeno per i negozi. C'è dunque molta attesa anche da parte dei commercianti dopo il meteo incerto ed anomalo che ha caratterizzato la primavera di quest'anno. E quindi a maggior ragione saranno dei buoni saldi perché i negozi hanno ancora tanta merce per la stagione più calda ancora in assortimento, quindi sicuramente in questi primi giorni si trovano dei negozi ben forniti. Secondo lo studio di Conf Commercio Toscana, sempre più aretini faranno acquisti ma dai loro portafogli usciranno meno soldi. In media infatti spenderanno poco più di 200 euro, 202 a famiglia per la precisione. Sicuramente un dato che l'abbiamo osservato anche negli ultimi anni, devo dire che prima il saldo era più un acquisto distinto, di impulso, adesso invece le persone magari prima ci pensano, valutano, vedono l'oggetto che gli piace e poi a quel punto decidono di acquistare. Quindi diciamo che c'è una scelta e anche un acquisto più consapevole. I saldi continuano comunque ad essere un motore propulsivo dell'economia provinciale. Secondo lo studio di Conf Commercio, gli aretini spenderanno quest'anno circa 18,48 milioni di euro.